Sei un parrucchiere? Vuoi diventare un professionista nell'IS Nation? Ciao, mi presento, sono Francesco Gallori e mi occupo di allungamenti di capelli dagli anni 80. Questo corso è un percorso educativo per diventare un campione in tutte le tecniche di allungamento e infoltimento capelli. Puoi diventare ora, adesso. Abbonati! Ti aspetto in aula! Grazie a tutti!